Cantiere aperti e volpiano? La buona notizia è che ci sono dei cantieri aperti, tanti, che sono quelli dovuti allo sblocco di fine 2015, che hanno interessato come altri che sono ormai chiusi tutto il 2016 e per le novità introdotte dalla legge finanziaria, io continuo a chiamarla così, perché si chiama legge di stabilità, per il 2017 potranno essere terminati assolutamente in modo corretto nel corso del 2017. Ma se il meccanismo è questo, per alcuni anni ancora si potrà iniziare un meccanismo corretto di svolgere le opere pubbliche, che è quello che poi interessa l'amministrazione. Uno di questi riguarda la nuova area mercatale? Certo, è uno dei lavori più corposi, anche perché è quello che come cronoprogramma prevedeva il maggior numero di giorni e questo è quello che ancora appunto è sforato nel 2017, ma come spiegavo prima le nuove norme sugli appalti hanno fatto slittare il termine di consegna lavori e quindi anche questa sta rispettando il cronoprogramma e penso che sia terminato all'interno dei prossimi due mesi. Perché la decisione di fare questa nuova area? Ma è una cosa prevista già da più di un decennio nel piano regolatore, come si è visto c'è una zona attorno più adeguata per parcheggi, per servizi e quindi consente anche un mercato con più spazi e più servizi, ha gli stessi operatori del commercio ambulante. Dall'altra parte il paese ovviamente si è sviluppato e quindi nelle linee di sviluppo è giusto portare i servizi e decentrarli, come si dice in gergo. Questa è soltanto un'opera, poi come si è visto nel cantiere ci sono appunto altre costruzioni, ci sarà una sede dedicata sia alla polizia municipale che allo spostamento di un museo, un museo mineralogico, dove è attualmente posto anche poche possibilità di essere visto, mentre è sicuramente meritorio una visita a questa nuova struttura che si va a creare, una sede dedicata all'Associazione Nazionale Carabinieri, un'altra sede che rimarrà di utilizzo per riunioni, sedi, associazioni. Quindi si va a decentrare gli servizi che attualmente sono tutti nel centro storico, anche nelle parti dove i cittadini risiedono, però in maniera adeguata perché a differenza del centro c'è più disponibilità sia per il parcheggio sia per la novità delle strutture e la sicurezza del luogo. Spostandosi nei pressi del cimitero sta nascendo invece un'area basket dedicata a chiama questo sport. Sì, anche in quest'area sono più di 100 gli interventi fatti sul territorio, noi abbiamo fatto tutta una serie di interventi qua come si è visto nei parchi, nella zona sportiva, ci sono nuovi impianti di illuminazione, sono state spostate le recensioni, quindi tanti sport all'esterno, quella più visibile dei cittadini perché non è all'interno di una zona chiusa, vi è quest'area che è stata pensata per il basket, che quindi si aspetta un mese un po' più caldi per poter fare una lavorazione adeguata, ci sono tanti ragazzi che giocano al basket e gli sporti tra virgolette minori si sentono sempre un po' invasi dal calcio che in ogni luogo piatto disponibile viene utilizzato. Quindi questo è stato pensato per loro e pensiamo che possa essere anche un'attenzione verso chi fa altri sport, non quelli soltanto più conosciuti o più importanti dal punto di vista della partecipazione. Grazie per la visione!